Quindi aumenta il numero di computer, c'è anche quello di Simone lì, connesso a internet, non c'è speranza, tethering, parlo parlo parlo, benvenuti a tutti, siamo all'ultimo appuntamento con Open Data in Action, continuiamo con Data Visualization insieme ad Andrea Nelson Mauro, con cui tireremo un po' le fila dei lavori che abbiamo iniziato nei precedenti moduli, a partire dai dati di Open Cohesione. Buona continuazione e la parola ad Andrea, di dataninja.it. Ciao a tutti, grazie intanto di avermi invitato. Dunque, quello che cercherò di fare oggi è di condividere dei contenuti che siano in qualche modo utili, a capire un po' qual è il contesto in cui la Data Visualization, in particolare orientata al Data Journalism, ma lo storytelling possa essere utile. Intanto dico due cose di contesto. Dunque, io mi chiamo Andrea Nelson Mauro e insieme ad Alessio Scimarelli ho fondato Data Ninja.it, che sostanzialmente è nato come un blog in cui condividere i nostri esperimenti e l'ambizione che in realtà poi abbiamo provato a condividere era quella di cercare di costruire un po' un network, diciamo, dove favorire le connessioni tra varie competenze e dove chiunque potesse condividere i propri esperimenti di Data Visualization o di Data Journalism. Quindi, questo è anche una prima call in action, se per qualche ragione avete fatto qualche esperimento vi interessa o pubblicarlo, diciamo, condividerlo in rete o avere delle informazioni su come fare, su dei particolari difetti che ha e che invece vorreste risolvere, mandateci una mail info-dataninja.it. Che cos'è dataninja.it? È un blog banale che abbiamo costruito, ormai non più tanto banale, che abbiamo costruito un annetto fa. Prima gli esperimenti, i nostri lavori, poi gli esperimenti di altre persone. Ci siamo chiesti, prima di cominciare, quale fosse il contesto in cui operavamo. Non solo per un discorso di open data, intensi come dati aperti, ma per un discorso proprio di contesto, cioè globalmente, che cosa sono i dati? Quanti se ne producono? Allora, io ultimamente amo citare una frase di un signore che si chiama Eric Schmidt e che dice una cosa che è abbastanza inquietante. Dice che dall'inizio della civiltà umana, fino al 2003, sono stati prodotti 5 sub-byte di dati, la stessa quantità che oggi viene prodotta ogni due giorni. Questo signore faceva all'epoca l'executive chairman di Google e dico all'epoca perché questa frase lui l'ha detta nel 2010. Sono passati tre anni, se io vi chiedo dove eravate tre anni fa, penso a me, dove ero tre anni fa? Ero in un'altra vita probabilmente, nel secolo scorso. Mi sembra di parlare di un altro pianeta, lavoravo in un giornale cartaceo che non c'è più da due anni. Quindi questo è il contesto, diciamo, di Data Ninja, in cui Data Ninja si vuole collocare un dato alla volta. E questo è un overview che poi trovate nelle slide e che vi può dire, diciamo, in maniera abbastanza completa chi siamo e cosa facciamo. E comunque il nostro obiettivo è prendere questi dati e cercare di raccontare delle storie. Quindi abbiamo un profilo, diciamo, molto legato al giornalismo, anche come aspirazione personale. Ci piace l'idea di poter raccontare delle storie con i dati, anzi delle storie che partano dai dati. Però siamo anche coscienti del fatto che la sperimentazione, la curiosità nei confronti di quello che succede in rete, e dei modi con i quali in rete, diciamo, si lavorano questi dati, diventa un elemento fondamentale. Cioè la prima cosa che dico a me stesso, davvero, tutte le mattine è mettiti in discussione, cerca di imparare ogni giorno una cosa nuova, anche piccola. Perché comunque a fine giornata, una cosa nuova in più, tu sia stato in grado di impararla. Perché è talmente veloce il meccanismo con cui il mondo, il contesto, diciamo, è vivo e con cui si alimenta, con cui si evolve, che, diciamo, fermarsi e pensare che le proprie competenze siano sufficienti per affrontare quello che ci sta accadendo in termini di informazione, di contenuti, di dati, è rischiosissimo. Ecco, si rischia veramente di, in un mese, di trovarsi in un mondo completamente diverso. Non esistono, credo, diciamo, secondo, se devo dare i miei due sensi, previsioni credibili su quello che succederà nel mondo dell'informazione, della comunicazione, se non il fatto che i dati continuano ad aumentare, sempre di più. L'altra sera, con alcuni amici, si parlava di dati ambientali della regione Lombardia. C'è un certo quantitativo di centraline dell'ARPA in regione Lombardia che misurano la qualità dell'aria e producono, se non erro, 2 milioni di record all'ora, solo per misurare com'è la qualità dell'aria in regione Lombardia. Quindi, immaginate qual è il contesto, cioè questi dati continuano ad aumentare in una maniera smisurata. Ci sono, tra questi dati, alcuni, ce ne sono alcuni che probabilmente possono avere più interesse, che si collocano, diciamo, nel contesto degli open data, perché magari sono stati pubblicati, diciamo, online, sono stati messi a disposizione da soggetti privati o da pubblica amministrazione, e che, diciamo, ci permettono, con un focus, con una certa attenzione, di capire come, per esempio, vengono gestite le risorse di un territorio o da una pubblica amministrazione. Non bisogna pensare che gli open data siano esclusivamente dati pubblicati dalla pubblica amministrazione, perché non è così. Open data sono dati aperti, accessibili da parte di tutti in qualsiasi momento, informati, quindi dal punto di vista tecnologico, che siano, appunto, aperti, se volete entriamo anche nello specifico, e che sono riutilizzabili in ogni modo. Un caso simpatico che mi piace citare è quello che ha realizzato un amico che si chiama Franco Morelli, che è un IT manager di Romagnolo, che è nato a Bagnacavallo e vive a Lugo, provincia di Ravenna, e che ha la passione per gli open data, e che ha fatto questo, che sostanzialmente si pone come obiettivo quello di far vedere come è fatto un bilancio comunale. Io non so quanti di voi abbiano mai presso tra le mani, se è cartaceo oppure scaricato, un bilancio comunale. I bilanci sono costituiti da tutta una serie di elementi, innanzitutto per esempio la differenza del capitolo Entrate e Uscite, no? All'interno di questi capitoli, diciamo, l'ammontare complessivo, per esempio, della spesa, è diviso in sottocapitoli, generalmente per aree, per argomenti, per settori, per dipartimenti. Quindi domanda, un comune come spende i propri soldi? Questo è un esperimento che ha fatto Franco Morelli, che trovate a questo account Twitter, Ecco il Moro, ha un blog, ha pubblicato questo e altri esperimenti dove li spiega in maniera molto approfondita, e probabilmente anche molto meglio di me, visto che poi li ha fatti lui. Lui cosa ha fatto? Ha scaricato il bilancio del comune di Bagnacavallo, che è un comune di qualche migliaia di abitanti, che si trova, diciamo, sull'asse Bologna-Ravenna, non so se siete mai stati, si tratta di circa un centinaio di chilometri, un piccolo comune di quella zona, ha scaricato questo bilancio, che se non erro era in PDF, l'ha reso utilizzabile, cioè dal PDF l'ha importato in un file, diciamo, in una tabella, quindi dal file Excel al CSV, a tutti i formati tabellati, in modo tale che, diciamo, questi dati diventassero machine readable, cioè che una macchina, un computer, un calcolatore, un'applicazione, fosse in grado di identificare, riga per riga, record per record, quali fossero queste voci di spesa del comune di Bagnacavallo. Ciascuna di queste voci di spesa è assegnata a un capitolo di bilancio, c'è un importo, ci sono delle motivazioni, insomma, via dicendo, e quindi si possono fare delle operazioni, cioè il fatto che questi dati siano machine readable, quindi non siano in PDF, per esempio, non siano, come capita a volte, delle tabelle stampate su una jpeg, ma siano un file Excel o CSV, anche se l'Excel è il punto più basso, diciamo, del concetto di Open Data, anzi, non è neanche Open, perché è un fermato proprietario, permette a un'applicazione, per esempio, come Microsoft Excel, oppure come LibreOffice Calc, di effettuare dei calcoli su questi dati, il che cambia completamente la prospettiva di utilizzo di questi dati. Infatti Franco ha fatto delle tabelle pivot, cioè ha provato a fare delle misurazioni all'interno dei dati, per vedere quanto ammontasse la spesa di gestione economica finanziaria, o il servizio di smaltimento di fiuti, o la viabilità e la circolazione. Quindi, allora, questo, diciamo, lui ha clusterizzato questi valori e ogni bolla indica la quantità di spesa. Quindi il comune di Bagna Cavallo spende molto per la gestione economica, finanziaria, e per la programmazione e il provveditorato. spende altrettanto, un po' meno, forse, no? Questa bolla è più piccola di questa, è un po' più piccola, per il servizio di smaltimento di rifiuti. Spende una certa quantità, insomma, abbastanza consistente, anche per la viabilità e la circolazione, che è l'ultima bolla, quella azzurra che c'è in alto. Questo ci permette, comunque, di capire, anche orientativamente, quali sono alcune di queste voci. Dico una cosa, diciamo, come frase incidentale. Se durante la mia, chiamiamola, spiegazione, c'è qualcosa di poco chiaro, interrompetemi, quindi la prima regola sarebbe interrompetemi e farmi domande, perché magari alcune cose io le do per scontate e invece non lo sono. Ok. Sì. O meno. Decide se pubblicarlo o meno. Adesso, in questo momento, sai, se io volessi andare a prendere i dati del bilancio del Comune di Bari, ora... In teoria dovrebbero essere online, diciamo. Allora, le norme sulla trasparenza si sono abbastanza... Diciamo, io non sono un giurista, ecco, però, ecco, posso dirvi di... Per quello che ne so, ecco, com'è la situazione. Insomma, sostanzialmente, la spesa pubblica va in qualche modo resa altrettanto pubblica, nel senso che io dovrei essere in grado di conoscere tutto ciò che avviene. L'ultima novità, che non riguarda nello specifico i bilanci comunali, ma riguarda quell'open by default, per cui tutte le amministrazioni devono pubblicare un elenco online dei pagamenti che effettuano che siano superiori ai mille euro, da mille in poi, è una cosa che ci metterà ancora di più a confronto con questi dati. Addirittura, non vorrei dire una cosa, diciamo, una fesseria, ma se non ricordo male, le amministrazioni sono obbligate a pubblicare prima il dato e solo dopo possono effettuare il pagamento. Non sono dei campioni di velocità, ma... Scusami, non volevo farti una domanda giuridica. Ah, ok. Nel senso, forse ho sbagliato io a porla, perché... Vabbè, comunque è un pezzo... Sì, sì, sì. Che vale la pena. Nel senso... Cioè, una volta che io... Cioè, io sono un giornalista, no? E ho un PDF da cui posso togliere... posso estrapolare i dati, no? Sì. Questi dati qua. Uno, io lo posso fare perché sono pubblicati, però... Cioè, non è detto che io lo possa fare se sono pubblicati in PDF, giusto? Dal punto di vista tecnico? No, dal punto di vista tecnico si fa quello che c'è, tipo con... Ci sono una serie di accorgimenti, anche molto più semplici, diciamo così. Ok. Mentre tu chiedi dal punto di vista... Cioè, nel senso, io, se sono pubblicati, li posso estrapolare, ripubblicare? In teoria no, vabbè, questa è un'altra domanda giuridica. Però... Vabbè, niente, continuo. No, secondo me, allora, dal punto... Diciamo che lì poi si entra anche nelle questioni del diritto... Sì, no, 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 scusami, lascia parte. Il giornalista, in teoria, potrebbe fare tutto, diciamo. In Italia, purtroppo, c'è questa distinzione, quindi... Ok, quindi se sei un giornalista, in teoria, vabbè... In teoria puoi pubblicare tutto, ecco. Vabbè, scusami, niente. No, 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 citi la fonte, fai quello che vuoi. In questo caso è un caso di attivismo, fondamentalmente, perché Franco nella vita fa l'IT manager in un'azienda romagnola, è nel tempo libero, quindi la notte o l'alba si dedica a attività di questo tipo. Insomma, è una cosa che comunque, diciamo, si sta diffondendo molto, perché c'è grande voglia di partecipare e l'interazione che finora è stata consentita a noi cittadini singoli è stata sostanzialmente relegata al fatto di poter commentare gli articoli dei giornali, quindi lasciare lì le nostre impregazioni, perché magari scopriamo la sera, tardi, quando arriviamo a casa, che qualcuno ha rubato qualcosa, allora dopo una giornata di lavoro uno va lì e molla, insomma, tutto quello che avrebbe voluto dire, quello che non aveva mai osato dire. Questi sono modi di interazione completamente diversi, perché Franco produce un valore, cioè non che chi lasci il commento non produca valore, però la gran parte delle volte non è così. Lui invece lascia, diciamo, un grande valore, perché ti permette in un istante di vedere alcune cose, non tutte, però alcune cose sì. Cioè, in un istante tu guardi questo grafico che puoi navigare, poi se volete vi faccio vedere anche la versione, diciamo, online, e ti permette, per esempio, di capire come spende i soldi il tuo comune, cioè quelli che tu gli dai, come tasse o che riceve dallo Stato, il comune li spende in gran parte per i rifiuti, ma soprattutto la maggior parte, diciamo così, cioè il valore più alto è legato al proprio funzionamento, cioè per funzionare spende un sacco di soldi. Quindi è questo uno dei primi elementi. Poi è chiaro che questo, diciamo, dal punto di vista giornalistico è uno spunto, non può essere il punto di arrivo, semmai il punto di partenza. Sì, devi prendere il microfono, perché... No, 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 prendi, prendi, prendi... No, no, perché siccome è tutto live e va registrato, la domanda è farla al microfono, così sentono anche... Ok, chiedevo se dai dati generali, dalle voci generali, si potessero estrapolare poi le voci di dettaglio del bilancio. Assolutamente sì, allora io adesso vi faccio vedere il link navigabile, ho messo uno screenshot perché non ero certo che... ho pensato che se non ci fosse stata la connessione a internet, magari avremmo fatto bene anche con uno screenshot. Allora, sostanzialmente il discorso qual è? che è dietro questa visualizzazione qui... Adesso sono andato sul blog di Franco. Dietro questa visualizzazione qui c'è una grande tabella di dati. media, grande, piccola, insomma... E questi dati vengono infilati all'interno di questo software, che in questo caso è un software che si chiama Tableau, e attraverso alcune regole, alcuni, diciamo, percorsi che gli si assegna, lui le visualizza in questo modo. Quindi, ad esempio, prima abbiamo visto il discorso... abbiamo visto uno screenshot. Ora, io questi dati li posso navigare, per esempio, per funzione, no? Quindi, lui è in grado di raggruppare i dati in base ad alcuni valori, valori che sono contenuti all'interno delle singole colonne, ed è in grado di visualizzarli, quindi di mostrarli in base al valore economico con delle dimensioni anche visite, delle cose geometriche, diciamo così, no? Quindi tu hai una visione, diciamo, immediata, tramite un oggetto geometrico, in questo caso delle bolle, della quantità di denaro che per quella utilità, diciamo, per quel tipo di servizio viene speso. Questo è un dashboard, è uno dei nomi, in gergo, diciamo, tecnici che si usano per queste cose, perché, diciamo, è un luogo da cui tu puoi accedere a varie visualizzazioni, vari contenuti, e puoi navigare, puoi, per esempio, vedere che sulle funzioni generali di amministrazione, semplicemente passandoci sopra col mouse, l'importo totale è 75 milioni di euro, o per la funzione di pubblica istruzione, l'importo totale è 25 milioni di euro, no? Quindi, banalmente, questo è un caso specifico che riguarda una pubblica amministrazione, un comune, un luogo, diciamo, che si trova in provincia di Ravenna, con un certo numero di abitanti, eccetera. Però, nel momento in cui questo dovesse diventare un dibattito, diciamo, cittadino, tu avresti la possibilità di andare in un luogo in cui puoi vedere se effettivamente sono 20, 25 milioni di euro programmati, promessi, eccetera. Quindi, è una sorta di oggetto che ti serve, per esempio, per attività come il fact-checking, no? Che per i giornalisti diventa importante. Allora, se il giornalista è in grado di produrre oggetti di questo tipo, fa un'informazione di qualità, perché parte intanto da numeri, e non da opinioni e basta, ma qualcosa di solido. E, per seconda cosa, immette, diciamo, nel dibattito cittadino, un nuovo thread di discussione. Non è soltanto, che ne so, il soggetto A che dice diamo questi soldi e il soggetto B che dice non li diamo. Ma sei tu che intervieni e dici guardate che con i dati la situazione è questa. Quindi, per le funzioni di polizia ci sono 8 milioni e 271 milioni. Sono sufficienti? Ce ne vogliono di più? Bisogna spostare? Cioè, questo poi diventa anche oggetto del dibattito, ecco. Parti da dati di fatto. Questa è comunque una, diciamo, una visualizzazione navigabile, quindi per funzione, per servizio, questa è quella di prima, c'è una piccola modifica, comunque sostanzialmente quella di prima, oppure per intervento, no? Per intervento è un altro tipo di classificazione con cui questi dati sono stati, diciamo, visualizzati, ci sono stati raccolti e che ti permette di dare anche una nuova lettura. Quindi, immaginando un dato che è una riga di un file Excel, no? Questo dato è, per esempio, una certa attività, il nome di questa attività, una serie di valori economici, una serie di categorie alle quali appartiene, per esempio, la prestazione e servizi e tu puoi effettuare dei conteggi su questi dati tramite funzioni semplicissime di Excel e poi visualizzarli così. Questo è un caso, comunque, abbastanza specifico che... Da qualche parte c'è il totale dei fondi nella visualizzazione? Cioè la somma totale? Sì. Ma qui c'è il file Excel, per esempio. Cioè tu ti scarichi e vedi poi... Da qui, in questo caso, però, stiamo parlando di un caso specifico, di un'applicazione specifica. Di un'applicazione specifica. In questo caso tu clicchi... Questo tablò funziona così. Clicchi export e puoi scaricare i dati in vario modo. Io banalmente adesso, diciamo, potrei scaricarlo in Excel e farvelo vedere. Ok. Te lo faccio vedere al volo, così, insomma. Vi rendete conto poi di come sono fatti questi dati? Non so neanche dove siamo. Questa è la mia cartella del rimborso, spero. Pienissima. Sono rovinato. Ah no, lui qui ha scaricato la visualizzazione. Beh, io qui però faccio un po' fatica a vedere. Ve lo faccio vedere... Vi faccio vedere comunque un dataset dopo. Per capire qual è la struttura di questi dati. Faccio rapidamente un altro paio di esempi. A cosa possono servire questi dati e come si possono visualizzare. Un altro esempio è quello che riguarda il terremoto in Emilia Romagna 2012. Due scosse e tanti danni. Ma come sono stati... Dove si sono verificati questi danni? Qual è l'ammontare di questi danni? I danni sono stati stimati in tutti i 61 comuni dell'Emilia Romagna. C'è un progetto che si chiama Open Ricostruzione che ha tutta una serie di attività diciamo data driven ma anche diciamo un coinvolgimento sociale che cerca di misurare la quantità di questi danni cercare di attivare la partecipazione sul territorio. In questo caso qui per esempio questa è una mappa fatta per Open Ricostruzione in cui sostanzialmente abbiamo in questa zona diciamo questa è tutta l'area che c'è tra Reggio Emilia Modena Ferrara e Bologna ok? Questo è quel pezzo diciamo di Emilia Emilia perché la Romagna non è stata ricompresa in questo non è stata colpita sostanzialmente dal sismo questo è tutto il pezzo di Emilia che è stato monitorato per effettuare i lavori di ricostruzione. Ciascuno di questi comuni ha subito una certa quantità di danni in base alla quantità di danni su questa mappa si diciamo visualizzano i perimetri da colori più chiari a colori più scuri i colori più chiari servono per indicare una quantità di danni minore in termini assoluti i colori più scuri per indicare una quantità di danni maggiore quindi Ferrara non so se lo vedete comunque qui giù diciamo in trasparenza c'è scritto Ferrara secondo questa mappatura secondo questi dati ha avuto danni per diciamo fino a un milione di euro quindi invece ci sono dei comuni per esempio questi di questa faccia centrale tra i quali se non erro c'è anche Mirandola insomma che sono già sulla provincia di Modena che hanno avuto tutti i danni superiori ai 10 milioni di euro ecco andando poi in dettaglio per esempio io qui ho evidenziato il comune di Carpi siamo in grado anche di visualizzare quali sono i danni per tipo di edificio quindi allora se sappiamo che il comune di Carpi ha avuto in totale 7 milioni di euro di danni possiamo poi sempre tramite questi dati riuscire a capire quanti dati hanno avuto gli impianti sportivi vedete sono scritti qui è un grafico a barre banalissimo quanti danni hanno avuto gli ospedali quanti danni hanno avuto gli edifici pubblici cimiteri chiese aree sociali eccetera sono dati che cominciano ad avere già una certa età perché rispetto a maggio c'è stato un aggiornamento ecco quindi li aggiornerò però questo comunque permette di avere un quadro d'insieme di che cosa sta succedendo allora nel momento in cui a fine giugno 2013 la regione Emilia Romagna come ha fatto ha pubblicato una delibera in cui ha ha segnato un miliardo e mezzo se non erro di finanziamenti per la ricostruzione cioè ha detto stanti questi i danni registrati noi destiniamo questo primo miliardo e mezzo a questa serie di opere di ricostruzione conoscendo i dati sapendo lavorare sui dati si può per esempio opporre una domanda diciamo a questo tipo di finanziamento e dire perché per esempio se a Carpi vado per diciamo pensando a voce alta ecco non è una cosa che è successa realmente però immaginiamoci che la maggior parte dei danni di Carpi sia legata cioè che ci siano grandi danni per esempio sugli edifici storici no? però la regione stanzia delle scuole stanzia dei fondi nella fase iniziale per i cimiteri no? allora conoscendo i dati si può chiedere regione Emilia Romagna perché hai finanziato prima i cimiteri quando invece la maggior parte dei danni sono sugli edifici storici e quindi diciamo anche questo è un caso in cui il dato aiuta a comprendere meglio il territorio e a poter interagire in maniera più diciamo conscia con la pubblica amministrazione e parliamo comunque sempre di un contesto di pubblica amministrazione ci sono poi invece altri contesti che sono diciamo al di fuori non necessariamente soltanto legati alla pubblica amministrazione dove il tema dei dati continua diciamo è ancora più interessante io passerei a questi se sono stato chiaro fin qui se non avete particolari diciamo domande su questo ecco allora un contesto dove non c'entra soltanto la pubblica amministrazione per esempio è questo lavoro qui che però ho cliccato di qua questo lavoro qui questo è un lavoro molto misto che al quale io non ho partecipato diciamo in maniera diretta ma indiretta è stato fatto da Alessio Scimarelli e da un collega di un'agenzia giornalistica di Genova questo è uno dei risultati finali diciamo perlomeno finali della prima fase quello che vedete è una pagina del secolo XIX che pubblica un certo numero di dati sulla presenza di videoslot a Genova che è la città di riferimento del secolo XIX giornale più diffuso più storico di Genova allora il tema qual è capire cioè la domanda giornalistica in questo caso qual è capire qual è la concentrazione di videoslot in tutta Italia esistono dei dati sicuramente esistevano anche online diciamo pubblicati sul sito dell'AMS perché praticamente esiste un obbligo di legge che dice che chi installa una videoslot nella propria attività deve dichiararlo in qualche modo no? deve essere pubblica questa cosa deve essere autorizzato e via dicendo l'elenco di questi esercizi decine di migliaia di esercizi è stato pubblicato sul sito dell'AMS allora l'idea che hanno avuto Alessio e Raffaele ma insomma diciamo nello sviluppo di questo lavoro è stato quella di scaricare tutti questi dati che non erano open data cioè erano stati pubblicati come dati come elenco su un sito dell'AMS che adesso non ricordo l'acronimo come si sciolga esattamente comunque l'agenzia monopoli di stato che giustiscono le scommesse che giustiscono tutta l'attività insomma la lottomatica insomma tutte quelle robe lì elencati elencati città per città via per via esercizio per esercizio quindi decine di migliaia di nomi di luoghi locali bar o altri tipi di attività in cui c'era scritto in questa attività in via tal dei tali in questa città c'è una videoslot oppure questo è un mini casino cose di questo tipo sostanzialmente per decine di migliaia di volte obiettivo vedere qual è la concentrazione sul territorio nazionale anche perché in questo periodo non so esattamente se nella regione Puglia o al comune di Bari questo sia oggetto del dibattito ma in alcune regioni d'Italia come per esempio il comune di Genova come per esempio la regione Lombardia è stata recentemente o discussa o approvata o è in fase di approvazione una legge che dice che le videoslot devono stare a delle distanze diciamo così di rispetto rispetto a scusate della cacofonia inevitabile rispetto a alcuni edifici edifici sensibili ad esempio nel caso di Genova se non erro diciamo il limite era di almeno 250 metri da questi edifici sensibili 300 metri da questi che mi correggono qui dalle quinte da questi edifici sensibili quindi tu se hai un bar e ci vuoi mettere una videoslot devi stare almeno a 300 metri dalla scuola ad esempio noi dove siamo non potremmo installare diciamo così i videoslots perché qui dietro abbiamo la scuola Giulio Cesare che evidentemente è a molto meno di 300 metri da dove siamo noi l'avremmo potuto installare lontano diciamo da qui perlomeno rispettando questa distanza in realtà in realtà questo è un caso in cui diciamo si aprono tutta una serie di filoni straordinari perché ti rendi conto anche giornalisticamente di come alcune leggi vengano fatte o perlomeno proposte senza che ci sia una concreta cognizione di causa perché se a Genova il limite è di minimo 300 metri dalle scuole com'è possibile che c'è una videoslot ogni 235 metri il 90% circa sono fuori legge sono fuori legge è chiaro bisogna vedere cosa dice la legge la legge non dice che chi è a meno di 300 è fuori legge la legge dice che questa è la regola vi dovete adeguare le leggi italiane direi un po' in maniera un po' populistica quindi in realtà fai la legge questi stanno lì c'è un tot di tempo per adeguarsi però tu qui prendi gli esercizi che hanno delle slot misuri queste distanze tra l'esercizio con la slot e la scuola perché è uno dei più diciamo caratteristici degli edifici sensibili e ti rendi conto che questa distanza non viene rispettata regione Lombardia questa questa legge è stata approvata un mese fa anche lì perlomeno nel comune di Milano la situazione è analoga il 90% degli esercizi sono a meno di 500 metri di distanza dagli edifici sensibili quindi la gran parte dei bar di Milano in teoria è fuori legge non potrebbe avere questi video slot la legge però ha un impianto se non erro analogo anche lì e quindi questa è la situazione diciamo che diffusamente si trova tra diciamo l'applicazione poi concreta cioè le leggi e la loro reale efficacia in questo caso specifico è un caso palese di come dire cioè ho trovato l'inghippo prima di fare la legge è una cosa in cui veramente ma come fate queste leggi verrebbe da dire da cittadino avendo una base dati con la quale poter diciamo argomentare una domanda del genere chiaramente è una domanda molto più interessante tant'è che il secolo XIX che ha pubblicato questa inchiesta ha introdotto nel dibattito a Genova sulle video slot tutta una serie di elementi nuovi dei quali le pubbliche amministrazioni locali stanno tenendo conto c'è tutto un dibattito che si è sviluppato con l'assessore su facebook sulla pagina del giornale via dicendo i cittadini che gli opponevano cioè gli citavano queste inchieste insomma è una cosa abbastanza ampia poi per maggiori informazioni su questo o su altri casi sentiamoci via mail insomma non voglio poi essere troppo lungo anche perché la case history la vorrei fare abbastanza breve e quindi vado subito del sodo un altro caso è questo adesso che cambio sempre la slide sul computer un altro caso interessante al quale che mi piace citare è questo riguarda l'inchiesta sui migranti moti al mediterraneo allora questa mappa visualizza tutta l'area del mediterraneo ok all'interno di questa area del mediterraneo vedete ci sono delle bolle piccole medie grandi di colore arancio che tende al rosso ognuna di queste bolle rappresenta uno shipwreck un naufragio non so se la pronuncia inglese azzeccata ma le bolle si dimensionano in base al numero di morti e dispersi per singolo naufragio quindi a colpo d'occhio no voi vedete che tutto il mediterraneo è pieno di naufragi ogni pallino è un naufragio avvenuto negli ultimi cinque anni dal 2009 al 2013 esistono delle zone dove ci sono i pallini più grandi che sono quelle più colpite da questo fenomeno quando il 3 dicembre scorso è affondato il barcone a Lampedusa e ci siamo tutti giustamente scandalizzati per questa tragedia incredibile che ha coinvolto centinaia di migranti morti o dispersi contemporaneamente non dobbiamo non dobbiamo però essere sorpresi perché il tratto diciamo la rotta dall'Africa a Lampedusa è il tratto dove storicamente muoiono più migranti quindi se io ho pochi strumenti io stato diciamo così ho pochi strumenti per controllare tutto il mediterraneo magari cercherò di concentrarmi molto su questa zona qui che collega diciamo così connette l'Africa con la Sicilia tramite Lampedusa dove si verifica il maggior numero di naufragi anche su questo diciamo per chi volesse approfondire approfondiamo poi meglio anche via mail dico due cose al volo noi abbiamo preso questi dati da un blog che si chiama Fortress Europe li abbiamo geolocalizzati cioè ad ogni naufragio ad ogni evento abbiamo cercato di attribuire delle coordinate geografiche con una certa approssimazione che se volete vi spiego però insomma diciamo che siamo stati il più scopulosi possibili perché non esiste né un istituto europeo un'istituzione italiana europea che misura il numero di morti ma soltanto il numero di cioè misura soltanto diciamo le migrazioni no? quanti ne arrivano ogni anno ma non quanti ne muoiono ogni anno neanche il Frontex lo fa a livello europeo e perché quindi non esiste un database condiviso che è un progetto che invece noi vorremmo portare avanti anche con altri amici e colleghi europei abbiamo cercato appunto di mappare tutto basandoci sui dati di Fortress Europe in cui Gabriele Del Grande che è un attivista giornalista blogger italiano molto allegato a questo problema ha raccontato evento per evento cioè lui tutte le volte che ha ascoltato diciamo ha sentito che c'era una strage diciamo di migranti ha scritto all'interno di un ha scritto diciamo ha riportato questo fatto citando la data il luogo dell'avvenimento un piccolo abstract per raccontare l'episodio quindi naufragio a Lampedusa sono morti tra morti dispersi 100 migranti e soprattutto ha inserito un link io adesso questo lo faccio vedere perché Gabriele ha fatto una cosa che rende il suo lavoro a mio giudizio immortale ed è una parola che anche se è un po' altisonante io non uso a caso nel senso questi sono 20.000 morti in oltre 20 anni è una guerra fondamentalmente nessuno sa niente vengono da paesi in cui a malapena ci sono strumenti diciamo tecnologici anche se in realtà l'Africa non è poi non tutti i paesi dell'Africa sono messi malissimi c'è qualcuno magari un tantino più modernizzato però senza il lavoro di Gabriele che ha costruito questo blog in tanti anni tutte queste storie sarebbero scompliate farsi lui ha fatto due cose che rendono questo suo lavoro immortale il primo che ha inserito i dati in tabella questa è una tabella il che significa che per come funziona internet e per come funzionano le applicazioni diciamo così più diffuse questi sono dati riutilizzabili in qualche modo cioè io posso fare lo scrapping li posso tirare giù scrapping significa to scrape significa grattare no? li posso tirare giù li posso organizzare in una tabella servono un po' di accorgimenti un po' di applicazioni capire insomma come funziona questo discorso però lo posso fare il secondo lavoro e quindi questi dati sono diciamo questi 1500 eventi sono riutilizzabili in qualche modo io li tiro giù li metto in una tabella e comincio a per esempio posso fare delle ricerche sui testi mettere in fila le date vedere quali sono i paesi in cui si verificano gli eventi in più l'altro elemento che lui ha fatto anche questo di estremo valore è che li ha linkati quindi ciascuno di questi eventi non è semplicemente raccontato da questo pezzettino qui ma ha un link a un articolo la fonte non è lui che dice che sono morti n migranti è lui che riassume in due righe un articolo in questo caso di Repubblica e ci mette il link tutte queste storie si possono raccontare quello che abbiamo fatto noi è stato aggiungere due colonne diciamo così una in cui abbiamo messo evento per evento il numero di morti e poi l'altra colonna che in realtà diciamo sono due quindi tre colonne ecco in una abbiamo messo il numero di morti nelle altre due abbiamo messo le coordinate geografiche quindi la latitudine e la longitudine calcolandola da storie raccontate così il risultato finale è appunto una mappa che visualizza questi eventi e che ti permette di avere una visione complessiva del fenomeno del fenomeno perlomeno limitatamente a quello che che è la base dati allora io diciamo dal punto di vista dei dei casi da citare mi fermerei qui per non prendere troppo tempo a questa cosa a meno che voi non vogliate approfondire uno o più di questi casi passerei a un discorso successivo io solo una domanda ti vorrei fare secondo te quali sono di queste visualizzazioni che abbiamo visto quali sono i punti di forza e i punti deboli rispetto alla cosa che vogliono raccontare se ci sono beh io chiederei rigirerei la domanda a voi ecco nel senso che alcuni sono lavori che diciamo ai quali ho partecipato direttamente altri sono lavori che comunque ho visto fin dall'inizio da quando sono nati quindi magari insomma questo discorso io l'ho già in qualche modo affrontato ho esaurito diciamo la mia spinta critica nei confronti non perché siano perfette assolutamente tutto è perfettibile poi la logica del codice cioè tutto ciò che c'è online fondamentalmente da un lato cioè è comunque migliorabile in questo caso qui sicuramente diciamo a me a me pare che dal punto di vista giornalistico questi lavori abbiano un contenuto abbastanza forte rispetto a quello che tradizionalmente diciamo il giornalismo offre ha offerto fin qui nel senso io sono un giornalista e se guardo al mio passato non credo che mai io abbia visto diciamo così realizzato dei lavori che in così poco spazio siano in grado di mostrare così tante cose ognuno lo fa poi abbiamo anche un giornalista quindi magari chiederei anche a lui un'opinione dopo cioè a me piacerebbe più conversare che non sì insomma vai tu per gli esempi che sono molto illuminanti una domanda su questo terzo caso è che hai detto che le coordinate vengono prese vengono aggiunte credo manualmente ecco si potrebbe tranquillamente automatizzare andando a prendere lo snippet quell'estratto che è già sul blog di Del Grande quello che hai fatto vedere prima aspetta che lo mostriamo dunque allora non so perché allora tu dici che si potrebbe si potrebbe automatizzare noi lo facciamo già per altri sì individuando i luoghi geografici in quel testo quelle tre righe quattro righe sì e poi andando su geoname se cerchi geoname sì 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 ho capito che c'è già che è quello che viene utilizzato per esempio nelle pagine di wikipedia per associare le coordinate geografiche se la pagina è per esempio nella città di Bari in alto a destra com'è? no no aspetta però lui dice una cosa che ha un suo cioè lui dice ci sono dei processi di georeferenziazione che sono automatizzabili ad esempio banalmente io uso spesso google spreadsheet su google spreadsheet qui che è un'applicazione di google drive drive creo uno spreadsheet al volo io utilizzo così viene rimane anche in video lo dico per questo eh io utilizzo andando su strumenti galleria script faccio al volo eh così latitude mi pare che beh qui la la abbiamo qualche problemino di commissione no banalmente cerco questa stringa qui perché so che c'è uno script che funziona che fa sto mestiere io uso spesso questo si 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 lo installo certo visto clicco install ok chiudo banalmente facciamo facciamo un esempio al vostro scrivo roma eh in questo caso la funzione si chiama geocode geocode e tra parentesi ci metto B1 e lui mi trova le coordinate questo è il processo automatico che dicevi tu che ti chiami scusa Gianni Sameraro ok adesso vuoi rispondere perché ti spieghiamo dov'è che ci siamo bloccati noi no è molto semplice qui l'indicazione è Roma e lui ti dà più o meno il centro di Roma lì l'indicazione è 40 km a nord di Lampedusa vai su Google Maps perché questo usa le api di Google Maps scrivi scrivi proprio su Google Maps 40 km da Lampedusa e lui ti risponde testuali parole e che vuol dire perché 40 km da Lampedusa non è un luogo tra l'altro non è un luogo è una circonferenza lui però ti dice magari 40 km al nord di Lampedusa cioè io con le coordinate che abbiamo tirato fuori prima con quella procedura automatica ho tirato fuori cioè l'ho messo su Google così lui ha capito che era una coordinate ma ha messo una freccia sulla mappa scrivi 40 km a nord di Lampedusa lui non lo sa quindi il problema è naturalmente parto da Lampedusa e me lo dice lui dov'è giustamente e poi però devo spostarmi miglia nautica spesso devo spostarmi di 40 miglia a nord e questo non è automatizzabile o almeno non ho mai non ho trovato niente che possa automatizzare vai su Maps però automatizzare una cosa del genere bisogna farla a mano questo vedi non te lo dici impossibile 40 miglia a nord ma tu lo sai dov'è però perché tu ce l'hai Lampedusa 40 miglia le sai misurare quindi sai più o meno dove può essere avvenuto con un errore inevitabile questo però lo puoi fare questo raffinamento lo puoi fare solo a mano altrimenti tutto ciò che è avvenuto a largo di 200 miglia da Lampedusa è tutto piazzato al centro di Lampedusa e questo mi però non mi fa vedere dove sono venuti i naufragi e quindi non è possibile farlo automaticamente per arrivare a farlo manualmente Alessio ha la classe ha sviluppato un piccolo oggettino che interroga le app di Google sulla base di alcuni elementi allora sappiamo che in questo caso abbiamo Lampedusa ok e lui ci individua Lampedusa sulla mappa queste sono le coordinate questo è quello che lui ritorna dopodiché se sono 40 miglia lui ha sviluppato una bolla che si apre e che ha un raggio proporzionato a quel parametro quindi io scrivo qui 40 miglia che comunque sono tantissime in realtà rispetto al contesto e voi vedete che sicuramente non può essere la posizione esatta neanche quello dell'SOS può essere la posizione esatta però questa linea rossa qui la circonferenza passa esattamente a 40 miglia intorno a Lampedusa quindi se noi sappiamo che la nave il barcone è affondato nella rotta tra Sfax o Kerkenna e Lampedusa e sappiamo quindi che ha fatto questo tracciato se è affondato se è affondato a 40 chilometri è affondato qui non sarà affondato qui però non sarà affondato neanche troppo più vicino né troppo più lontano basta spostando sì bisogna anche dire che poi come si fa spostando il market scusa il marker è proprio un trucchetto cioè allora io non ho una formazione da sviluppatore quindi magari a volte utilizzo anche dei termini impropriamente diciamo nello sviluppo a volte si parla del concetto di workaround cioè il modo di arrivare alla soluzione attraverso una perifrasi diciamo così allora lui che cosa ha fatto? ha sviluppato questo oggettino per cui noi sappiamo che quando siamo qui Lampedusa si trova cioè attorno a Lampedusa c'è una circonferenza il cui raggio è 40 miglia quindi se io faccio il procedimento al contrario metto Lampedusa sulla circonferenza so che questo puntino qui è 40 miglia punto è diciamo così un workaround un po' artigianale ma comunque non esiste nulla da quello che sappiamo noi poi magari non poniamo limiti alla provvidenza degli stati però non esiste nulla di più preciso ecco fondamentalmente a patto di vai microfono si sto per parlare di dati chiusi in realtà le mappe anche le mappe dati chiusi no perché di solito parlo di dati geografici aperti in realtà anche le mappe di proprietà dello Stato di queste zone sono estremamente imprecise sono quindi non c'è in alcun modo la possibilità di sapere dove è quell'oggetto a meno di avere le coordinate date dalla comunicazione col satellite che le grosse bar che hanno ma che ovviamente queste qua non hanno perché sono piccoline e equipaggiate in maniera alternativa quindi non c'è modo non c'è veramente modo neanche con le mappe di proprietà se vuoi poi ti faccio vedere qualcosa di mappe marine molto volentieri anche perché non conosco a parte questo caso non le conosco quindi per me è un modo di imparare qualcosa di nuovo oggi mappe chiuse in ambito marino ok a proposito di dati aperti e dati chiusi ho detto anche un'altra cosa a proposito di mappe diciamo ci sono due mondi che noi conosciamo sulle mappe uno è quello di Google l'altro è quello di OpenStreetMap in questo caso noi interroghiamo delle api Google quindi diciamo questo risultato qui cioè queste coordinate qui ce le da Google per usarle dobbiamo sottostare diciamo così adeguarci alle loro licenze infatti in fondo trovate un link sono proprietari diciamo così questo stesso lavoro fatto su OpenStreetMap invece sarebbe sì esattamente loro potrebbero giustamente visto che i dati sono loro sapere che noi l'abbiamo fatto quindi chiederci conto e quindi noi quello che possiamo fare è cercare di rispettare il più possibile le licenze e linkare in questo caso diciamo la pagina dei TOS delle api di Gmaps che sono facciamo un po' di no volevo aggiungere una cosa in risposta alla domanda di Chiara io credo che per esempio l'esempio di Franco Morelli quello su questo sul bilancio dei comuni è molto interessante e molto bello anche perché definisce un concetto importante cioè che il cittadino può e quindi deve nel senso diciamo democratico del termine occuparsi anche di questi temi e controllare ciò che fa l'istituzione che in teoria è lì per fare i suoi interessi no e il limite in questo caso per esempio è quello che noi chiamiamo lo storytelling cioè questo prende dei dati che vengono rilasciati in realtà non li controlla sostanzialmente li prende così come sono e li visualizza quindi ti dà un modo di leggere questi dati anche in maniera interattiva però non ti racconta nulla la storia bene o male te la devi costruire da te quindi non ti dà una chiave di lettura non ti dà un taglio con cui vedere questi dati perché al fine i dati possono essere anche infiniti puoi avere anche tutti i dati ma il trucco è capire quali sono importanti e quali no a seconda anche di quello che vuoi sapere e quello che vuoi dire perché darli tutti non è più informativo di non darne nessuno anzi o l'overload di dati altrettanto dannoso del totale assenza di dati quindi se vuoi questo è un limite dire che è un limite dipende dagli obiettivi di Franco Morelli in questo caso nel senso che il suo obiettivo non era raccontare una storia o fare una denuncia per esempio fare un'inchiesta tra l'altro fa un altro mestiere non è un giornalista di inchiesta lui no quindi chiaramente non è che è un errore assolutamente però per far capire che una cosa del genere una visualizzazione fino a se stessa è molto utile come punto di partenza ma per un giornalista banalmente è solo il punto di partenza cioè qua inizia la storia non è per niente la fine assolutamente qui inizia anche l'approfondimento giornalistico che ci può essere quindi io giornalista chiedo all'assessore perché sui rifiuti spendo x e non y eccetera 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 quindi diciamo l'elemento questo è il punto di partenza infatti il nome corretto è data driven journalism cioè il giornalismo guidato dai dati ecco ma non data journalism è basta il dato ti guida verso una certa direzione scusa finisco perché così tanto per fare la panoramica poi ho lavorato anche agli altri due progetti quello sui migranti un limite o comunque un elemento importante da capire è che e che a volte si dice il dato è freddo lì però stiamo parlando di temi molto caldi nel senso anche emotivamente coinvolgenti perché stiamo parlando di persone stiamo parlando di persone morte stiamo parlando di stragi e lì il rischio che spero che noi su cui abbiamo riflettuto quindi spero che l'abbiamo un po' evitato nel possibile ma immagino ci possono essere anche considerazioni anche opposte il rischio è partire dai dati rimanere ancorato ai numeri rimanere ancorato alla visualizzazione all'aspetto anche tecnico e dimenticare invece la carne e il sangue che c'è dietro quindi per esempio fare data journalism ma su temi caldi nel senso di anche emotivamente coinvolgenti ha una difficoltà ulteriore e quindi una fonte di errore ulteriore di problematica che è quello di dimenticare magari le persone perché ci si innamora troppo con i dati e noi ci abbiamo riflettuto su questo lo dico perché diciamo non è un'autocritica lo dico perché ci abbiamo riflettuto e quindi diciamo metto un warning un punto esclamativo sulle slot machine è anche un discorso che abbiamo fatto un po' di esperimentazione alcune cose hanno funzionato altre meno però per esempio lì abbiamo visto anche una risposta da parte della società civile e anche delle istituzioni almeno a Genova che da una parte ci ha fatto piacere chiaramente dall'altra ci ha anche un po' fatto intravedere la possibilità veramente che il giornalismo anche fatto così possa poi dire ma lo fa da sempre in fondo però questo è un modo anche per dire la sua in un dibattito in corso e quindi può anche inserirsi in un discorso tra istituzioni cittadini e mondo dell'informazione ma domanda ma data ninja cioè un'equipo che fa inchieste o fa solo data journalism diciamo per parlare di freddo e caldo cioè o di elaborazione di dati in prima battuta e poi utilizzabili da chi vuole fare non so giornalismo investigativo o di inchiesta noi facciamo ci occupiamo sia di data visualization sia di data visualization che di data journaling quindi alcuni sono dei lavori giornalistici diciamo che noi citiamo cioè citiamo come obiettivo il valore giornalistico del dato altri invece sono dei lavori diciamo descrittivi di dati su determinati argomenti eccetera quindi non abbiamo scelto in questo momento soltanto uno dei due aspetti fondamentalmente intanto perché diciamo che siamo arrivati forse lo dico scaravanticamente lo dico diciamo siamo arrivati alla sostenibilità del progetto da poco ecco fondamentalmente quindi non possiamo tagliarci le gambe sin dall'inizio ecco anche perché non sono tantissimi progetti data driven in Italia sostenibili ricordiamoci tutta una serie di limiti la lingua la cultura dei dati eccetera ci occupiamo sostanzialmente di dati per pubbliche amministrazioni gruppi editoriali NGO vari soggetti insomma io avevo anche se siete interessati al tema data ninja nello specifico e avete voglia e tempo da perdere potete andare a guardarvi un pacchetto che io ho fatto con un'applicazione che si chiama RAW di density design in cui diciamo che cosa abbiamo fatto in un anno da quando siamo in data ninja diciamo queste sono attività questi siamo noi abbiamo rotto le scatole qui quindi abbiamo attività facciamo attività facciamo attivismo anche noi non a scopo proprio di attivismo cioè di star lì e fare delle cose perché ci crediamo in vari contesti andiamo in vari eventi ci invito in vari eventi dialoghiamo con varie istituzioni lavoriamo con varie istituzioni con varie agenzie con vari giornali e con una NGO spero di poter dire varie fra un po' quindi questo è lo schema diciamo quindi se siete interessati qui c'è un articoletto che si chiama un anno di data ninja lo potete vedere qui da quello che sento in giro credo che siamo stati particolarmente fortunati perché attorno a noi non ci sono tantissimi soggetti che lavorano diciamo e sono sostenibili con i dati insomma a me viene solo in mente open police fondamentalmente che probabilmente è il più grande soggetto italiano e più innovativo che perlomeno che io abbia visto data driven open police dep che sono cioè l'associazione open police sostanzialmente questo è più o meno il contesto vi dico due cose rapide quando usare una mappa quando usare un grafico quando usare un grafico quando fare delle bolle quando usare dei chart cioè perché usare un tipo di grafico e non un altro la cosa migliore da fare è sperimentare generalmente per capire io ho trovato molto utile una cosa che è questa qui che però cambio sempre la slide il second screen allora noi tra le varie cose che facciamo per esempio in termini di attivismo c'è stata la traduzione di data wrapper che è un software di 3 based quindi già diciamo è un'applicazione che permette di visualizzare i dati in maniera interattiva in maniera abbastanza facile nel tradurre nel tradurre in italiano in una delle notti di attivismo eccetera e mi sono accorto che questo tutorial è veramente meraviglioso per la capacità di sintetizzare le singole situazioni che ci possono essere lavorando con i dati allora nello specifico io adesso vi faccio vedere qui allora si trova sul sito ufficiale eccetera eccetera comunque l'indirizzo è questo qui aspettiamo che Nicola ci metta il link in italiano quando troverà anche lui mezz'ora di notte per farlo questo tutorial sostanzialmente dice come trovare i dati come cercare dove trovare i dati no? non i siti dove trovare i dati ma i ragionamenti che tu ti puoi cioè le domande che tu ti puoi porre per cercare questi dati per esempio immaginiamo alcuni approcci i dati sulla disoccupazione sull'offerta formativa o sui costi dei servizi quelli della tua città regione sono più alti o più bassi rispetto a quelli delle altre regioni quindi banalmente in Puglia i dati di Bari sono più alti o più bassi di quelli di Taranto o di Lecce magari sono più alti magari sono più bassi magari ha un valore fare dei confronti territoriali in questo caso no? periodi le serie storiche cosa è successo dal 2001 al 2011 faccio queste due cifre perché ci sono due censimenti istat importanti sull'industria e servizi mi pare se non vorrei dire una sì comunque cioè cosa è successo i posti di lavoro sono aumentati sono aumentati o sono diminuiti la serie storica quindi vedere banalmente anche il delta no? tra il 2001 e il 2011 ti permette di capire questi dati se ti dicono che in quel territorio sono diminuiti nell'altro sono aumentati pro capite un altro elemento ad esempio prima guarderavo la spesa per i rifiuti come si fa a confrontare la spesa dei rifiuti di Bari con la spesa dei rifiuti di Lecce? si fa un calcolo pro capite quindi si normalizza diciamo così sulla popolazione quindi il comune di Bari spende 100 per i rifiuti 100 pro capite per i rifiuti e il comune di Lecce spenderà 90 oppure 110 insomma quindi puoi anche usare questi confronti e ti dà alcuni spunti questo tutorial molto utile secondo me per arrivare più concretamente sui dati ti dice anche che come devi pulire i dati c'è anche un piccolo esercizio che secondo me è molto ripetibile insomma perché lui ti parte ti mostra questa tabellina qui che è fatta in un certo modo molti di questi dati insomma non sono diciamo utilizzabili ci sono caratteri sporchi bisogna pulirli i dati questo è un aspetto fondamentale ne parliamo dopo forse è più importante pulirli che trovarli forse cioè stiamo là lui ti fa vedere come da questa tabellina si arriva poi a questa comunque se vi segnate l'indirizzo avete un'oretta da due rette ecco così da passare qui cioè questo secondo me è un esempio eccezionale superata tutta questa fase lui ti fa capire torno un attimo indietro come da questa tabella spiegato eh sperando di non aver commesso errori ortografici durante la traduzione notturna da questa tabella qui arrivi a questa che io già per esempio identifico come un oggetto molto più tranquillizzante per me perché vedo due colonne una colonna di stati e una colonna di valori e per me questa è una roba già pulita ok già graficabile eccetera tutto quello che c'era prima era un caos fondamentalmente ehm ti permette poi di fare questo esperimentino su data wrapper semplicemente facendo copia e incolla ti dà altre dritte ma questo capito capitoetto qui fase 5 è ancora straordinariamente utile perché scegliere un grafico a linee piuttosto che un grafico a barre perché un grafico a torta eh piuttosto che un grafico piuttosto che un histogramma allora qui ci sono delle spiegazioni utilissime è chiaro non si risolve tutto però è un punto da dove iniziare perché poi che cos'è questo data journalism che cosa sono queste visualizzazioni no per chi ha una formazione sul design per chi ha una formazione per esempio sulla business analysis via dicendo queste sono cose anche magari diciamo semplici banali no Franco Morelli il caso l'uomo che ha fatto le bolle sul bilancio di bagna cavallo fa l'IT manager e oltre ad essere un'ottima persona è un buon amico è anche uno che c'ha il tempo però ha già la preparazione per fare queste cose qui chi non ce l'ha come noi diciamo così cosa deve fare piccoli oggettini di questo tipo che ti aiutano ad orientarti colmano vuoti e lacune insomma che magari non si hanno per che si hanno per utilizzare questo tipo di strumenti quindi il consiglio assoluto è per chi non ha mai fatto pratica di andare a questo indirizzo qui quindi docs.datavrapper.de eccetera slash it slash google e scrivere bene questa pagina a me è stata molto utile per me è stata utilissima davvero non basta chiaramente però prima di fare una pausa caffè che poi facciamo invece workshop più concreto vi lascio con questi cambio sempre che linux c'è il second screen automatico io invece sono analogico un po' di risorse alcune le conoscete già quelle che non conoscete per i consigli diciamo per rimanere connessi al tema degli open data del data journalism e della visualizzazione dei dati in generale questi sono un po' di risorse allora spaghetti open data ormai si potrebbe dire alzi la mano chi non la conosce potremmo fare il contatto alzi la mano chi non la conosce spaghetti open data ah beh però abbiamo uno spaghettaro in più quindi spaghetti open data è la principale community sugli open data in Italia c'è di tutto dentro tra i quali molti di noi è una community non è un sito quindi è una cosa in cui si dialoga e si impara anche semplicemente leggendo i dialoghi altrui si impara di tutto per lo meno io non non avrei è un'università online per certe cose datanigio.it è il sito dell'indirizzo del nostro sito quindi se avete voglia e tempo potete andare a gironzolare un po' datajournalism.it è un sito italiano dedicato al data journalism lanciato da Elisabetta Tola di Formica Blu che è una collega giornalista è una delle prime persone che ha parlato in Italia di data journalism c'è anche un un gruppo google un altro gruppo google che si chiama data journalism Italy anche lì dibattito più focalizzato sul data journalism e c'è anche un neonato oggettino di cui si occuperà più attivamente Chiara Sciocciola anche con Paola penso successivamente che è questo gruppo Facebook che si chiama Open Data Bari lo sapevi? Hai avuto un incarico sei stata nominata direttorice scientifica di io posso dire qual è la mia esperienza personale prima di fare la pausa caffè stando in rete stando agganciato alle community ho imparato di tutto sono riuscito anche a implementare diciamo così a crescere le mie competenze che chiaramente sono comunque limitate necessariamente anche all'attività che faccio ma mi auguro di fare un per mille il prima possibile sono riuscito anche a lavorare e quindi si può yes we can Open Data yes we can secondo me si bisogna lavorarci molto però le condizioni ormai secondo me ci sono questo è la prima fase ne approfitto per una domanda che mi era rimasta in cambio ah ok visto che si chiama laboratori dal basso mi veniva in mente per esempio nel caso delle slot ma vale negli altri casi di studio si potrebbe connettere alla visualizzazione dei dati l'informazione che diciamo chiunque potrebbe generare dal basso appunto vale a dire se io ho una storia da raccontare sulle slot ho un'ipotesi e quindi mi ricollego al discorso storytelling un'ipotesi sul perché quella legge sia stata fatta in maniera che sia inapplicabile come faccio a inserire questa informazione magari la metto su tutt'altra parte la metto su twitter o creo su facebook un post però non ho modo di connetterla a questi dati e quindi non posso come dire dare una chiave di lettura mia come contributo all'accrescimento all'arricchimento di questa mappa di dati nell'ottica appunto di arrivare a uno storytelling quindi sono quasi una come dire una fonte di notizie perché spesso queste notizie sono a livello locale rimangono a livello locale al massimo vanno a finire su un mensile del comune di Rocca Cannuccia e magari invece proprio Rocca Cannuccia è il posto chiave per capire che quella legge sulle slot machine è stata fatta così volutamente perché sia inapplicabile come facciamo a fare informazione insieme quindi ma ci sono degli esperimenti ci sono degli esperimenti poi magari li possiamo anche approfondire il Guardian per esempio fa tutta una serie di iniziative diciamo di integrazione tra il citizen journalism e diciamo contenuti tradizionali giornalistici ecco è chiaro che l'informazione ha ancora tanti canali nei quali diciamo si diffonde uno dei principali canali sono sicuramente i mainstream quindi le televisioni e i giornali insomma cartacei o quel che ne resta e gli online la questione della cittadinanza attiva è molto forte bisogna favorire bisogna fare in modo che queste cose qui crescano quindi c'è vediamocela noi adesso adesso vi citerà vi racconterà che cosa è successo con il discorso delle slot però prima che lui lo dica cito un caso freschissimo che è quello della Sardegna all'ovione in Sardegna i gruppi alcuni attivisti diciamo sardi fanno questa mappa che si chiama Sardo SOS poi magari la cerchiamo comunque il discorso fondamentalmente è in piena emergenza come come aiutiamo la popolazione Sardo Sardo e eccolo non potevo non averla nella cronologia scherzando ho paura di quello che esca dalla cronologia quando faccio così però ah ok beh insomma comunque loro hanno fatto un'operazione che secondo me giornalisticamente è una delle cose più innovative che c'è stata in Italia cioè se allora loro hanno raccolto tra l'altro questo è lei ma anche partecipanti non è solo lei cioè allora lei come si chiama lei di nome non mi ricordo Francesca che è legata al diciamo è attivista del gruppo Sardegna Open Data ok che è un gruppo di attivisti di Sardi diciamo in piena alluvione fondamentalmente hanno raccolto questi dati per qui adesso possiamo anche entrare nello specifico ma sostanzialmente loro cercano di mappare tutto danni offerte d'aiuto evacuazioni notizie tra l'altro questo è crowdmap che il nome stesso dice che cosa che cosa rappresenta una mappa in cui tu raccogli in crowd cioè quindi dall'esterno i contributi c'è tutto un meccanismo è la stessa che è stata usata dovrebbe essere basata su Shaidi ok clicco su 93 notizie che è questo ballino questo cluster che si è formato qui vedo quello che sta succedendo in questa zona ecco la mia domanda cioè chiaramente è una cosa fatta da qualche volontario con strumenti online senza alcuna progettazione se non il know-how che queste persone hanno la mia domanda è ma come è possibile che nessun giornale italiano abbia pensato di fare queste cose qui nel 2013 non vi lamentate voi se non avete click non vi lamentate perché la gente l'utilità magari la trova di più qui che non nel giornale Unione Sarda che faccio vedere una cosa adesso qua entriamo in Facebook quindi il rischio è totale di compromettere la mia reputazione no ma c'è stato un amico Pierluca Santoro che ha condiviso qualche giorno fa i miei aerei le mie cose niente la scena in pizzeria mappe scusate dovrebbe niente qua mi sto proprio un attimo l'aereo dovrei trovare allora ecco qui guardate questo articolo qua cioè questi si vantano che fanno il boom di click che dire what else no come dice George Clooney what else che gli devi dire a questi cioè non lo so che gli devi dire cioè andate a confessarvi non lo so cioè muore non lo so neanche l'ironica non lo so è una no cioè mettono anche la farina non so se avete visto mettono lo screenshot di Google Analytics ma cazzo ma questo è un giornale vabbè comunque insomma sicuramente miglioreranno anche loro noi cerchiamo di fare la nostra parte prendiamo un caffè ok questi contributi li lascio qui così ah sì Alessio dice invece sì e prendiamolo subito così facciamo sono molto contento che lei mi abbia fatto questa domanda no questa è una frase no perché ci abbiamo pensato ovviamente quello è stato un esperimento in cui abbiamo detto abbiamo pensato proviamo a a coinvolgere o comunque a pensare a come coinvolgere poi sapevamo che sarebbe stato molto difficile perché coinvolgere è una cosa molto complicata devi incontrare trovare le persone devi metterli a disposizione strumenti che gli permettano di immediatamente di fare delle cose e quindi devi avere anche il supporto dell'editore insomma è una cosa complicata coinvolgere le persone è la cosa più difficile di tutte fare un grafico è una scemenza piuttosto che coinvolgere le persone questa comunque è la map diciamo è l'oggetto più elaborato che abbiamo fatto per le per le slot ed è una map interattiva fatta sempre con il buon google map e ci sono tutti gli esercizi di genova evidenziati gli esercizi quelli dedicati proprio a VLT e slot e ci sono le scuole clicca su un puntino due cose qua ci sono prima cosa puoi condividere su facebook e twitter quel singolo esercizio cioè la mappa è fatta in maniera tale che c'è un un indirizzo un url unico univoco per ogni esercizio se tu ti colleghi a quell'url lui ti apre la mappa la pagina intera la mappa e il fumetto quindi non c'è un url per la mappa c'è un url univoco per ogni punto della mappa questo ti permette di quindi condividere ovviamente condividere il link con le tue poi tu puoi riempire il test del post quindi su twitter e facebook puoi dire uh qua ci sono stato uh ma guarda che qua non esiste uh ma guarda che qui dice che è ma quello che ti pare puoi dire anche tra amici però puoi condividere questa cosa l'altra cosa che poi puoi fare è vai un po' giù no forse è scritto lì si eh puoi scrivere una mail cioè il simbolo della mail e puoi quindi eh cliccaci sopra eh non ho configurato il client di post non funziona non ho un programma di post si adesso impazziscono ah ok vabbè comunque sostanzialmente lui ti ti precompila una mail che poi puoi mandare ah ti precompila la mail con tutti i dati di quel singolo eh esercizio che sono i dati che noi abbiamo e ti permette di eventualmente modificarli e segnalare quindi qualcosa di nuovo puoi fare segnalazioni questo è ovviamente molto semplice solo una mail quindi è proprio basilare però il concetto è quello ti permette di o modificare dati già inseriti e quindi ti permette di segnalare per esempio errori e ce ne hanno segnalati oppure puoi aggiungere per esempio una cosa che l'AMS non dice è quante slot sono installate eventualmente in un esercizio autorizzato potrebbero essere zero cioè quello è stato autorizzato ma non ha mai installato materialmente le slot o potrebbero essere n qualsiasi e noi abbiamo detto beh chiediamolo agli utenti se il bar è sotto casa all'utente magari quello lo sa benissimo quanti sono no? e quindi poteva aggiungere questa informazione ripeto molto basilare tecnologicamente una schifezza roba vecchia quello che volete fatto in poco tempo quindi secondo me più di così non si poteva fare e devo dire che in questo contesto era anche inutile nel senso che se tu mi chiedi benissimo quante segnalazioni avete avuto si contano sulle dita di due mani quindi non più di dieci ve lo garantisco per mille motivi e va bene così ma noi ce l'aspettavamo non ci aspettavamo un boom di segnalazioni di questo tipo poi non era lo strumento giusto quello che vuoi però è stato un esperimento pensato anche in quest'ottica cioè permettere alle persone di condividere l'esperienza che stavano facendo in quel momento sulla mappa quindi per esempio i luoghi che conoscono con cui magari con gli amici sono andati a prendersi una birra e anche eventualmente segnalare degli errori ripeto qualcuno ce l'ha segnalato nel senso che effettivamente alcuni esercizi erano stati autorizzati ma avevano chiuso banalmente nel frattempo e quindi noi li abbiamo tolti dalla mappa o abbiamo segnalato mi pare questo bar è stato chiuso hai notato la presenza di conversazioni online sì avevo fatto uno screenshot di tutta la discussione che si era scatenata su facebook e tutto è avvenuto all'interno della pagina ufficiale di il secolo XIX cioè la pubblicazione sia dell'articolo sia di questa mappa si è scatenata una discussione in cui poi è partecipato anche l'assessore come detto prima e quindi poi c'è stata una discussione diretta tra persone e tra cittadini e istituzioni in quel caso era l'assessore adesso al ramo non mi ricordo sì insomma che si occupava e che aveva sostanzialmente partecipato alla scrittura della legge e ci sono stati non so saranno stati un centinaio di post tra botte e risposta sostanzialmente due o tre discussioni con 100 150 post in tutto diciamo ovviamente se tu mi dici che hanno detto devo dire che molti sicuramente erano a dalli allo slaughter no? ci rovinano eccetera eccetera quindi sostanzialmente esternazioni però anche discussioni anche lunghe insomma qui c'è chi ha detto delle cose sul comune l'assessore ha risposto ci sarà poi una controrisposta altri hanno partecipato si è sviluppato una piccola discussione che insomma a noi ci ha fatto piacere chiaramente perché vuol dire che poi abbiamo toccato anche un nervo scoperto del 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 territorio e comunque ha dimostrato che questa è una strada che si può percorrere sicuramente non è la migliore ci sono tante cose da fare io credo che la cosa che abbiamo imparato è che bisogna fare le cose insieme cioè non esiste che tu hai l'idea tiri fuori magari lo strumento lo sbatti lì e sei convinto che funzionerà e piacerà a tutti e accadrà chissà che no bisogna farlo insieme all'editore al eventualmente poi coinvolgere o essere coinvolti dalle istituzioni dai cittadini dalle eventuali comunità che ci sono attive su questo tema ci sono diciamo il movimento no slot ci sono gli slot mob ci sono un sacco di cose che fanno su questo tema e con cui abbiamo parlato in realtà con cui abbiamo parlato e insieme poi questo può essere uno dei tanti passi come al solito di un percorso che può essere più o meno lungo e può portare poi magari anche a intervenire su questi fenomeni non solo a raccontarli ma perché no anche intervenirci comunque valorizzare l'interazione fondamentalmente cioè non limitarsi al commento cioè l'interazione tante cose di internet sono figlie diciamo di interazioni anche spontanee e ne determinano la ricchezza per esempio banalmente anche OpenStreetMap che cos'è è un luogo in cui decine di migliaia di persone fanno delle cose volontariamente e arricchiscono conoscenza condivise producono conoscenza condivise quindi la rete è un posto in cui queste cose qui possono funzionare e ci sono delle pro Wikipedia ecco quella più condivisa è proprio quella in cui ho messo un placemark un url univoco per ogni per ogni luogo e ho ricevuto una cinquantina di suggerimenti di aggiunte di in quanto tempo? in dieci giorni beh poi mi ha ripreso Guido Romeo quindi è andato su iRed e quindi vabbè c'è stato un po' di cassa di risonanza diversa che è la mappa più stupida in assoluto che abbia fatto è quella mappa il cui nome suona vagamente volgare o bizzarro in lingua italiana con tutto questo titolo se vuoi valla a vedere maps.cortesi.com e c'è un url per ogni singolo posto è necato si chiama slot invaders la prima quella del fotovoltaico non se l'è filata nessuno ha poi fatto un po' di clustering l'istenda è andato verso Godo sicuramente Godo Barbona fondamento delle tette gazzo questo è il deep web gazzo grossa ok il deep web sega ah quindi se uno si fa no se uno si fa il beh sì in effetti io sono deformato però era così il percorso lo posso fare purtroppo sega gazzo crozzo Godo niente vediamo in Puglia cosa c'è bitetto verga d'acciaio effettivamente femmina morta ah beh ha vinto la Puglia direi dai prendiamoci il caffè il caffè il caffè